Non è amore se ti prende a calci, ti tira i pugni e ti strappa i capelli, se ti spinge e ti schiaffeggia, se ti isola, se ti umilia, se danneggia le tue cose, se ti controlla, se ti ricatta, se ti offende. La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. In campo per divertimento, agonismo ma soprattutto in campo contro la violenza sulle donne, la mattinata di Olimpia femminile cantera triatica iniziata con il discorso di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza nei confronti del gentil sesso. Al donati di Pescara e Derby tutto pescarese con la cantera che si impone in maniera nettissima, otto reti e bottino pieni ai danni dell'Olimpia. Passando alla cronaca al quinto è già 0-1, azione solitaria di Daniballe che tira dal fondo del campo, centra il palo e serve involontariamente un cioccolatino a capitano Fusco che lo scarta ottimamente e firma lo 0-1. Neanche il tempo di resistemarsi in campo che arriva il raddoppio con Apezzato che da centro area sfrutta un passaggio di Fusco e raddoppia al diciassettesimo ancora la numero 16, sempre sul secondo palo questa volta. Da rivedere la conclusione della classe 98, passano dieci giri di lancette e Daniballe viene ottimamente in beccata verso la porta, salta Cigli e deposita facilmente in rete per il 3-0. Nella prima frazione c'è spazio ancora per altri gol al ventinovesimo, punizione a palombella di Fusco che batte una non perfetta Cigli, doppietta personale ed è 0-4. Nel finale di tempo doppietta per Daniballe che sfrutta un cross dalla destra e cala il pocherissimo nella ripresa girandola di cambi in 5 minuti. Le ospiti vanno in rete per altre due volte al terzo con Apezzato che sfrutta una gita fuori porta di Cigli e la batte da lontanissimo e dal quinto con Calvano che corregge in rete un traversone di Daniballe prima dello scadere. Il risultato arrotondato con la fantasista Masciugli che realizza un calcio di rigore termina dunque così un match senza storie che rilancia ancora di più le ambizioni della cantera. Olimpia, cantera triatica 0-8. La cantera ha strameritato la partita perché sono ragazzi già affiatate da anni. Io purtroppo sono due settimane che mi trovo qui all'Olimpia. Sto cercando di portare alcune modifiche con speranza di migliorare un po' il gioco. Stiamo aspettando anche dei rinforzi che penso molto presto arriveranno. Che devo dire? Nient'altro. Sono soddisfatto del risultato anche se è pesante però hanno fatto un secondo tempo molto molto bello. Diciamo che contrariamente alle altre volte ho visto un gioco migliore, si sono espresse meglio le ragazze, ci abbiamo lavorato molto negli allenamenti e quindi il gioco è stato più fluido e più costruttivo. Ho visto più fantasia, ho visto più azioni di attacco e sono molto soddisfatta delle loro prestazioni. L'unica cosa che voglio dire, l'unica cosa che voglio fare è ringraziare il mio mister che è qui a fianco a me e il nostro grande portiere che mi ha coinvolto in questo progetto e mi sta dando ogni giorno di più, sempre più fiducia. Io sono sicura che arriveremo in alto, ne sono più che sicura.